Corrado, aver combattuto fino all'ultimo per il titolo nel 2012 ha avuto un impatto sul normale ciclo di lavoro nella produzione? Sì, sicuramente sì, c'è stato un grandissimo sforzo negli ultimi 4 mesi dello scorso anno perché si sono sovrapposte in maniera molto forte le attività di conclusione del campionato con gli ultimi sforzi di sviluppo aerodinamico che abbiamo portato nelle ultime gare negli Stati Uniti e in Brasile con quello che era la nascita della nuova vettura che ha comportato la necessità di organizzare in maniera molto disciplinata quelle che erano le due tipologie di attività pur avendo a che fare con un unico bacino di risorse che sono le nostre capacità di produzione interna e il nostro parco fornitori. In questo la corretta definizione dei programmi, il loro rispetto e la grande attenzione a non compromettere nessuno dei due programmi è stato l'elemento di grande sforzo oltre che alla richiesta verso le persone e verso i fornitori di un grande sforzo aggiuntivo legato a questa sovrapposizione. Con dei regolamenti tecnici sostanzialmente invariati una delle aree su cui si lavora per ricercare prestazione è il peso quali azioni sono state fatte su questo fronte e anche quali azioni sono state fatte sul fronte della miniaturizzazione? Certo, questo è un aspetto molto importante perché durante il periodo invernale in cui si costruisce la nuova vettura si lavora spesso su elementi più nascosti della vettura che sono appunto la realizzazione dei componenti base, elementi accessori di installazione motore, il cambio, le sospensioni e su questi si va a ricercare una performance che poi rimane per tutta la stagione sostanzialmente a meno di sviluppi che sono più lenti rispetto a quelli di tipo aerodinamico. Quindi in questo caso la ricerca dell'ottimizzazione del peso, della sua distribuzione e quindi la ricerca anche tecnologica di realizzare componenti sempre più snelli e più resistenti ma leggeri è un qualcosa che ha caratterizzato quest'anno più di altri non avendo grosse variazioni di tipologia di componenti, così come pure la miniaturizzazione dei componenti quindi la ricerca di una grande compattezza in particolare nella zona del retrotreno ha comportato la ricerca di una qualità dei componenti in termini anche geometrici molto sofisticata che è quello che ci ha permesso di mettere insieme questa parte della vettura la cui forma poi condiziona gli sviluppi aerodinamici durante la stagione e quindi è importante che venga correttamente raggiunta durante la fase di costruzione delle prime vetture. Ripeto, questa è una cosa che richiede uno sforzo tecnologico particolarmente sofisticato poco visibile agli occhi degli spettatori ma che pone delle questioni tecniche assolutamente di massimo livello. Il 2013 rappresenta un anno particolare soprattutto dal punto di vista produttivo perché non soltanto ci si deve concentrare sulla vita della macchina della F138 ma si va verso una nuova sfida, la vettura 2014. Come la stai affrontando con i tuoi uomini questa sfida nella sfida? Anche questo è un tema centrale per chi si deve occupare di risorse e del loro corretto utilizzo nell'ambito dello svolgimento di programmi ognuno dei quali non ha possibilità di compromessi perché la performance della vettura del 2014 dipende già da oggi da come sviluppiamo i nostri programmi di sviluppo motori ma allo stesso tempo abbiamo in mano la stagione 2013 su cui siamo estremamente concentrati. Quindi le persone sanno di dover affrontare soprattutto nell'ambito della meccanica un anno con grande attenzione, grande impegno da questo punto di vista stiamo sviluppando dei programmi e delle isole di lavorazione che permettano di rendere indipendente lo sviluppo del motore dell'anno prossimo rispetto a quello che è la concentrazione sulla meccanica della stagione in corso in maniera tale da portare avanti entrambi questi programmi col massimo impegno e con la massima performance possibile.